Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Non vi nascondo che l'altra volta, poche ore dopo che sono venuta qua in trasmissione, indovinate chi si è rifatta viva dopo mesi? Ha soppi che ti disturbo? Dico solo a me lo so, le 7 di mattina, veda un po' lei. Cioè, è come al solito, come se niente fosse, non è che mi ha domandato, richiamo più tardi, no, lei va avanti, me lo riesce addosso, tutti i fatti suoi. Io l'ho detto, guardi, stavolta è diverso perché ho appunto un contratto regolare con la Shline, per correttezza glielo devo dire. E lei mi risponde, quanto ti paga la Shline, te do il doppio. Io ho detto, guardi, non è un fatto di soldi, come lei si può immaginare, è un fatto di convinzione. Dice, no, ma che stai a dimar, l'altra volta ha propagandato, ho visto, hai fatta nera, Shline, hai rovinata, vieni con me, te do il triplo. Dico, guardi, anche sta cosa, cioè la polarizzazione è veramente fastidiosa. Cioè, tu fai un intervento dicendo, Elie Shline mi piace ma sulla comunicazione ci sarebbero margini di miglioramento e diventa un attacco violento alla segretaria del PD. Comunque, voglio dire, mi sono spiegata, l'ho detto, io ci sto perché sono d'accordo con tutto quello che dice. Per me la Shline, quando dice, ta 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 ta, io mi inchino e se ci va giù dura e dice ta 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 tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat e lei, insomma, non abbia veramente capito con chi ha a che fare, dottor Quintublo. L'ha, sinceramente, un pochetto vacillato. Ho detto, guardi, mi faccia prendere un caffè, se ne vuole parlare. Ho preso tempo, effettivamente ho vissuto un brutto quarto d'ora di forte dissidio interiore, in cui da una parte mi dicevo, tutti questi soldi ti compri una casa al mare, dall'altra mi dicevo, ma che se, ma a te corruzione. Però il progetto parlare coi fasci ha portato tanti risultati politici che, insomma, sono serviti a tutti. Però dicevo, ma no, sei pazza, perderei tutta la tua indipendenza. Insomma, alla fine, finalmente, però, ho deciso e ho fatto quello che qualsiasi persona veramente di sinistra avrebbe fatto. Cioè, tu, Maccox, non ci saresti arrivato, secondo me. Mai. Lavora gratis, mai. Esatto, ho detto, lo faccio, ma lo faccio gratis, grazie. E' inutile che ridi, perché comunque il mio tornaconto innanzitutto ce l'ho. Cioè, non è una cosa questione di autolesionismo, tu non puoi capire. È questione etiche. Io il mio tornaconto ce l'ho, perché appunto, come già vi ho detto, ho intenzione di farmi aiutare per fare un film. E poi comunque io nel dialogo ci credo. Per me, appunto, se Giorgia una mattina si svegliasse, si ponesse un interrogativo, tipo, ma io chi sono? E soprattutto, chi è sto Gian Bruno? Per me sarebbe una grandissima soddisfazione. Qualcuno, forse, di voi già ci sarà arrivato. Ovviamente, se ha lasciato Gian Bruno, il merito è mio. Ce lo siamo tolti dai piedi, non è poco. Perché lei all'inizio non lo vuole lasciare. Diceva, no, fammi finire sto mandato, poi vedi come c'è un mano. Le ho detto, il mandato sono altri quattro anni, Presidente. Lei ambisce a diventare una statista, può stare con uno che appunto si mette la mano sul pacco, con la stessa mano ci prova con la collega in diretta. E lei era per la figlia, chiaramente, poi c'era sto spot in testa. Non me posso vedermi, figlia, con la pesca a mano. Gli ho detto... Gli ho detto, però poi, quando Gian Bruno prende la pesca, la prende con la stessa mano sempre. No, dico, un fatto anche di igiene per la bambina. E insomma, piano piano si è ammorbidita, però devo dire, mi ha investito con una valanga di chiacchiere che mi hanno abbastanza sturdita. Oh, te non sai quanto è falso, quanto è buciardo. Pensa che questo all'inizio, per corteggiarmi, ha fatto finta che era di sinistra. Dico, mi faccia capire per quale motivo avrebbe dovuto far finta, perché lo sanno tutti, 30 fratelli d'Italia, che io dentro casa... Cioè, preferisco quello di sinistra, solo dentro casa, perché effettivamente sono più educati, sono più puliti, collaborano, te danno la mano a sparecchiare. Dico, perché il fascio contemporaneo ancora... Cioè, neanche fa il gesto, dico, di sparecchiare. No, ma che scherzi, no! Ma il fascio non salserebbe mai! Ma te dico che l'ollo Brigida non si è arzato da tavola, nemmeno quando mi sorella si è scivolata sotto all'occhi! Questo ha fatto voglio assicurare un po', è quello impossibile! Lo segno, l'ollo Brigida è il prossimo. Poi mi fa... Guarda, io naturalmente stavo cercando, ovviamente, il momento per cominciare a parlarle anche di sto film. E questo non si fermava mai, come un treno. Io questo poi all'inizio non era così. Io ho pure provato a ragionare con Gian Bruno. Gli ho detto, ma Gian Bruno, ma te ricordi quando se siamo conosciuti? Che te stavi sempre zitto, te lo ricordi Gian Bruno? Ma te lo ricordi che pure l'anni dopo sei rimasto sempre zaguito, te lo ricordi Gian Bruno? Ma te ricordi quanto era bello Gian Bruno? Ma perché non te stai zitto? Niente, me devo realizzare pure io! Ma dico, proprio adesso te devi realizzare! Ma non vedi che sto a fare la Presidente del Consiglio? Non vedi che ho fatto tutta finanziaria a muffo? Niente, c'è stato perso. Di provare a inserirsi su queste altre cose, questa sempre disperata. Adesso mi toccherà cambiare pure lo slogan, io sono Giorgia! Dico, beh sì, effettivamente, forse a luce dei fatti è un po' obsoleto. Io sono Giorgia, lo posso dire? Fammi lo dire in spagnolo, io sono Giorgia! Ok, no, vale. E' meglio. Soy madre, vero? Il, come si chiama? Il padre? Lo ricciato le case, completata se la gola. Dico, adesso ci pensi, un attimo. Lo slogan, poi con la complessità, eccetera. Ma comunque sono sicura che le verrà. E come al solito, lei a un certo punto, dopo 25 minuti, che praticamente parlava solo lei, mi fai adesso c'ho da fare. Ciao, ti richiamo io. L'ho detto no, guardi, non funziona così. Il dialogo è fatto anche di ascolto. Adesso sarebbe carino se lei ascoltasse anche un po' quello che ho da dire io. Lei si è sentita in contropiede, mi ha detto certo. Quindi ho detto la cosa, appunto, ho fatto la domanda al ministero per avere l'interesse culturale. Dico, non me lo danno mai, se ci mette la parola buona a lei sono sicura che questi interessi culturali ce lo trovano. Dimmi che si tratta del film, mi sono messa a parlare del film. Ho detto, guardi, con estrema sintesi, giuro. Ho detto, praticamente, è un progetto che fa un pochino l'occhiolino a certo cinema sudcoreano, in cui praticamente una commedia che nell'ultimo atto si trasforma in un horror, un po' anche una metafora di quello che sta vivendo l'Occidente in questo momento. Dico, che ne pensa? Non risponde nessuno. Non mi accorgo che mi ha attaccato il telefono. Cioè, per una volta che mi devi ascoltare a me, un minuto, attacchi, senza nemmeno salutare, una maleducazione, io credo sconfinata. Veramente ero indignata. Sarà pure una maleducazione identitaria, ma dico, io con questa non ci voglio avere più niente a che fare. Per fortuna, qualche minuto dopo, mi ha chiamato Elislein e devo dire un altro mondo. Ho ripreso a respirare. Ho fatto un discorso anche tanto bello, e mi ha detto... E alla fine ero commossa. Io ho detto, guarda segretaria, lei ha perfettamente ragione. L'impronta del patriarcato è ovunque e la guerra è un suo prodotto. Sabina Guzzanti!